Ciao a tutti amici di Player Insight e benvenuti alla rubrica per Anto... che cos'è? Annunci Lolli Annunci Lolli che ricordiamo fa parte del filone in questo canale delle rubriche della pausa caffè ovvero quelle un po' off topic che non hanno a che vedere essenzialmente con i videogiochi vi ricordiamo anche che giorno 16 e giorno 17, giusto? 17 e 18 saremo al Modena Nerd quindi mi raccomando venite a trovare Ragazzi E' molto preparato Rade e noi siamo indietro con le news perché qui c'è la PSP3 Ah però è uscita e non ne sapevo niente Tu non ne sapevi niente E' uscita solo a Savignano sul Rubicone Però in realtà se tu ci fai caso è della Apple, vedi? Vendo Trapunte è Merlin morto Non è la Merlin morro? Però effettivamente è morto Cioè non... E poi è morto ok, però questa è Merlin Tazza per buddino Che è il Buddha piccolo Vendo olio extra con la CS Olive Olive, extra olive Per essere chiapperi I chiapperi ragazzi I chiapperi I chiapperi Aceto Aceto di mamma Nintendo DS Attenzione prendo Nintendo con un gioco dei cani Non un gioco dei cani Potrebbe essere Watch Dogs Potrebbe essere anche Sleeping Dogs E ricordiamo che Sleeping Dogs è il seguito di Watch Dogs Non è vero! E Watch Dogs a sua volta è il prequel Non ne sape niente di video gioco E' il prequel di Nintendogs E Nintend Cats è una cosa che non si può dire Cambio si trae in C4 Sport con Pitch Cac Pitch Cac Di qualsiasi marca per contatto in privato Secondo me questo... Per scrivere pick up Ha sudato freddo Come mi si è messo tutte le cappa le asche In un modo nell'altro si capisce Allora questo è bellissimo Set canale e buon compleanno Già rito perché non mi sembra che ci si è scritto Ci ha scritto buon compleanno Uno gliele mette nella torta al bambino Ottima figura Ma che mi si è scritto? Tanto non sa leggere il bambino piccolo Mi se ne prego Ma questi sono anche per i 18 anni Per la laurea Buon compleanno Così Questo qui non è perché sarebbe no? Il cock Cocky shape Cioè nel senso a forma di gallo Gallo Avevi due possibilità O gallo o quello là Hai tradotto quello là È ovvio Così come E un pompino Che lo ricordiamo Smart What 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 Uno rosso e anche uno nero Regalati ai miei figli Ma usati solo mezz'ora Si collegano al bluetooth del telefono Ma i tuoi figli? Voglio dire Ma poi smetterla Ma che regali sono? Ma poi le smart what Cinesi che proprio fanno le radiazioni Tipo fall out Noi si chiamano veramente così Vestito con giaccia Abbinato nero Lungo con spacchi nei fianchi dei polpacci Non i metto foto Perché non le carica Contattate se davvero interessati E io mando foto Possibile anche spedizione Mai usato Mai Mai Tra te Bella interpretazione E la giaccia? La giacca Non lo so Buonasera a tutti Vorrei dire a tutte quelle persone Che si creano un profilo falso Con foto di persone falso Di ragazze E poi non sono ragazze Che a me piacciono le donne Noi gay Non mandami messaggi Ho foto vostre Che a me Non mi interesa E gentilmente Non rompete i cogli Buona serata A tutti Lasciatelo stare Questo povero Un profilo Beh non mi interesa Pennetto Questo è furbo Pennetto USB 16 giga Kim 10 puntate Di Gomorra La serie Ah ci ci è peccato Le puntate pirate Di Gomorra La serie Bravo Ah Cazzo Morbido Sersucker Biancheria Donnet Morbido Poi non serve A niente Ficchi Quindi A 2 euro Tu Ficchi Il mocasso Sì il mocasso È bellissimo Ma il disegno Lì accanto Che cos'è Cioè accanto A Ficchi Cioè sono disegnate Due cose Che cos'è Tu Ficchi Due Cos'è Cioè signori mei Veramente siamo All'apoteosi Dell'ignoranza Ma perché la scuola Ricordiamo sempre È obbligatoria Fino a un certo punto Ma l'ignoranza È facoltativa Barca Come vedi Dall'alto È 3 metri 3 metri per 1,30 Ma non è mai Ma come è tenuto Sto cane Veramente Porta candeline Civatta Una lettera Stavolta è sbagliato Ma era fondamentale Per non fare Una brutta figura E l'hai fatta Complimenti OnePlus 2 64 giga ram Ma che sai giga ram Salve vendo OnePlus 2 64 giga Con 4 giga ram Molto performante Al pari con Iphone Samsung 6s Vendo scatola Vendo scatola Caricapattere E fattura potente Come ABS 4 Potente come ABS 4 Che ha meno giga ram Ma che stiamo a scherzare Questa è potente come ABS 4 Ma c'ha meno giga ram Ma c'ha un po' De meno di giga ram Però tipo un xboxone Che si fa come la potente ABS 4 neo Ma che cazzo sta a dire Come scrive schermo protettivo? Io penso schermo protettivo Lucchetta No Lughetto Lughetto Ok Dice una delle due Sarà giusta PC camera 20 Mega pixel Ma questo perché siamo Sono anzi noi Che siamo prevenuti Che è il mega pixel Che vuoi? Esco lui l'ha scritto Mega pixel Papiroland Papiroland Il papiroland è bellissimo Mamma mia Usato pochissimo Tutti abbiamo in casa Un papiroland Usato pochissimo No veramente tutti ce l'abbiamo Non lo siamo mai American Hero 4 collection Aspetta 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 American Hero 4 non mi convince C'è Iron Man Hulk e fin qua Ma Hulk vabbè con quelle foto Spider Man e fin qua Ma Spider Man che hai in faccia? C'è Captain America e fin qua Ma Buzz Lightyear? Vabbè a modo su E' una roba Spara Nella foto Spara Giocattoli per gatti C'è un cane Dammo cana Te ne ricordi questa canzone? Bellissima Toglio ma tutta cosa Dammo cana Regalo vestitini sexy Con culotte A città uomini Vostri Anziché città uomini A città uomini A città uomini A città uomini Vostri farete colpo Chi interessato Mando in chat Immagini Solo a stranieri No Terroni di Piemonte Allora diciamo una volta per tutti ragazzi I terroni di Piemonte I terroni di Piemonte Hanno rotto le palle Cioè signori me Basta Terroni in Piemonte Non lo vedete Che tutti quelli Nordici sono intelligenti Che scrivono bene No ma i volentoni siciliani I volentoni siciliani Quelli sono i pericoli Ma oggi sono i pericoli Tipo quelli di Messina Marco Merino È un volentone di Sicilia Perché sta proprio là sotto Al nord Orologio Gronografo Aspetta Poi se è corretto No 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 Si scrive così Attenzione hai sbagliato Sì Va bene Lo correggo cara Orologio Gronografo Spiderman Giusto Mi sembra Sims Legend Secondo me Hanno fregato i soldi Tratta Vendo Mi tratta così Vendo Nintendo Wii Color Rosso Edizione Limitata Completa Tutto utilizzata Lochissimo Secondo me Questa vi frega No Nel senso Anzi 250 euro Per un abito Spoto Ma secondo me C'è pure lei Spoto Che ti vuole sposare Non mi piace Nuova mai usata Avendo le tetti Da campeggio Le tetti Mi raccomando ragazzi Lasciateci i vostri annunci Lasciateci Inviateci i vostri annunci A posto per l'inizio di GiaccioGmail Vi guidate piano Mi raccomando Vi guidate piano Non mandateci link Ma solamente foto Non cose che abbiamo già messo ovviamente Noi comunque vi ringraziamo sempre E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Grazie per la visione!